Dopo il successo ottenuto su PC, l'horror game firmato Red Barrels arriva anche su PlayStation 4, in forma gratuita per tutti gli utenti PlayStation Plus. Si tratta di un titolo cattivo e destabilizzante, che riuscirà a tenervi coi nervi a fior di pelle dall'inizio alla fine. Un prodotto che manderà in fibrillazione chi aspettava da tempo una rinascita del genere horror. Outlast si apre immergendo il giocatore nei panni di Miles Upshur, giornalista d'assalto che appare assolutamente ignaro del destino cui sta andando incontro. La sequenza d'apertura riesce a fornire il blando background narrativo necessario ad introdurre la vicenda, e soprattutto inizia a fargli entrare sotto pelle un senso di disagio che con il proseguire dei minuti diventerà sempre più martellante. L'arrivo al manicomio di Mount Massive avviene a bordo di un fuoristrada che Miles guida autonomamente. Un'atmosfera di tetra desolazione si diffida dalla struttura, mentre ombre dense e limacciose si allungano su di essa. A livello di gameplay, Outlast non è infatti un first person shooter e nemmeno un'avventura insoggettiva di stampo classico. L'imperativo spesso volentieri sarà quello di fuggire, ma oltre alle minacce rappresentate dalle persone che ancora abitano l'edificio, ormai in preda ad una follia assoluta e ad una sete di sangue non comune, anche i movimenti del protagonista ci remeranno contro, elemento che non farà altro che aumentare la tensione ed il senso integrale di smarrimento. L'esplorazione di Mount Massive sarà soddivisa in momenti ben specifici, alternati tra loro. Quelli di relativa calma permetteranno di esaminare l'ambiente, rimanendo però sempre sul chi vive. Gli spaventi improvvisi, sebbene non sempre perfettamente riusciti, saranno costantemente dietro l'angolo, imponendo quindi un atteggiamento circospetto perfettamente in linea con l'atmosfera generale. Le fughe saranno invece l'altra anima dell'intera produzione, ogni volta che si verrà scoperti, per semplice disattenzione per un errore di valutazione oppure per esigenze di trama, l'unica opzione sarà la fuga, sempre disperata, al limite della capacità polmonare. In questi momenti Outlast si trasforma temporaneamente in un titolo frenetico, con dinamiche ben architettate, che riescono ad elevare la tensione ben oltre il limite di guardia. Ben costruita è anche l'ambientazione, probabilmente l'aspetto più disturbante del gioco. Sulle prime si potrebbe pensare ad un setting derivativo e sostanzialmente già esplorato da troppe produzioni horror, ma in verità il sanatorio di Mount Massive è stato costruito con una cura maniacale. Spostandosi dalle sale d'accoglienza agli uffici si comincia a percepire un disagio incalzante, mentre si colgono tutti gli indizi della follia brutale e violenta che ha sconquassato l'edificio. In ogni ambiente verremo accolti da un senso di terribile putrescenza, perfettamente costruito dal team di sviluppo, che alterna ambienti marci e cadenti a scene gore di forte impatto. Anche la telecamera ha un ruolo fondamentale nell'economia di gioco. Sarà l'unico strumento che ci permetterà di vedere al buio, attivando la classica visione notturna caratterizzata da una dominante verde. L'alternanza tra luce e buio integrale è uno degli elementi più riusciti della produzione e riesce a creare situazioni veramente opprimenti. Di fatto, l'attivazione della night vision consuma le batterie della telecamera, probabilmente il bene più prezioso se non vogliamo ritrovarci totalmente sperduti nelle stanze non illuminate del manicomio. L'utente è preso così da un'attenzione quasi morbosa, che lo porta a spegnere con regolarità la visione notturna, restando per lunghi secondi immerso in un buio colloso e totalizzante. Questa ossessione per le tenebre viene valorizzata peraltro da un comparto tecnico di livello discreto, sorretto dall'ormai diffusissimo Unreal Engine 3. Il motore riesce a convincere soprattutto nella resa delle texture, mentre lascia a desiderare per quanto riguarda la realizzazione dei tantissimi elementi gore di cui Outlast è infarcito. L'edizione PS4 è ben ottimizzata e schizza fluida a 60 fps, mettendo in conto qualche episodio di tearing e ombre tutt'altro che perfette. Neppure il Polygon Count è miracoloso, ma grazie alla gestione dell'illuminazione il titolo riesce complessivamente nei suoi intenti. Da sottolineare poi un comparto audio di rara qualità, che lascia poco spazio alle musiche con l'intento preciso di dare risalto a un campione di effetti assolutamente agghiacciante. Outlast è un horror riuscito e convincente, potente, ansiogeno, con meccaniche ben indovinate che riescono a scuotere e destabilizzare il giocatore. Un titolo così su console non si vedeva da anni. L'ossessione per il buio, la visuale in prima persona, le dinamiche di fuga e l'accentuata vena gorra che attraversa le stanze del sanatorio riescono a costruire un'atmosfera sempre disturbante, nonché sequenze da giocare veramente con il fiato sospeso. Grazie a tutti.